Hola, benvenuto, benvenuta in queste pillole di evoluzione, una rubrica all'interno della pagina a spasso con lo scrittore. Lo sapevi vero che ogni essere umano è nato con dentro una scintilla divina? Che cosa voglio dire? Che ognuno di noi è nato per essere creatore della propria vita e per creare, per essere proattivo, per non reagire solamente agli eventi, per influenzare e per guidare la tua vita, è bene ricordarsi che ci sono tre elementi da tenere ben presenti e dei quali essere molto convinti. Ovvero, il primo che tu meriti, il secondo che tutto è possibile ed il terzo è che tu sei capace. Li ripeto, tu meriti, tutto è possibile e tu sei capace. Oltre a queste convinzioni ovviamente occorre tanto tanto impegno per la tua realizzazione. Ma vediamo un pochino di partire dal primo di questi elementi. Si tratta di una questione di autostima. Sì, tu meriti, meriti la cura di te stesso perché tu sei il primo a dover salvaguardare quella che è la tua salute innanzitutto e la tua sicurezza. Perché? Per poter generare quell'energia che è necessaria e che occorre per aiutare te stesso, per poi poter aiutare gli altri. Secondo elemento, tu puoi. È vero, tu hai la possibilità di scegliere, di scegliere che cosa fare perché possiedi molte risorse. Tutte quelle risorse che ti hanno fatto arrivare fino ad oggi, tutte quelle risorse che ti hanno permesso di non fare e di fare, di ottenere risultati non buoni e di ottenere invece risultati buoni. Quei risultati buoni che puoi ancora e ancora fare, continuare a fare. E quindi mettiti in testa che tutto è possibile. Decidi che cosa vuoi iniziare oggi. Decidi che cosa vuoi smettere di fare oggi. Decidi che cosa vuoi magari diminuire o aumentare per trovare quello che è il tuo benessere. Decidilo, perché tu puoi. Ed infine il terzo elemento, tu sei in grado. Tu sei in grado perché possiedi delle capacità innate che magari nemmeno conosci, ma che sicuramente verranno fuori. E sai come? Verranno fuori accogliendo quella che è la paura che magari ti impedisce, ti blocca o ti rallenta nel cammino che stai facendo. E quindi pensa ad una paura e accoglila, vivila, affrontala e da essa sicuramente imparerai. Imparerai tantissimo. Punta sulla fiducia nelle tue qualità. Voglio concludere questa rubrica o questo momento di pillole di evoluzioni dicendoti che è importante che tu abbia il cuore di sceglierti proprio per evolvere. Perché la tua scintilla, sì quella famosa scintilla divina, è lì dentro di te che ti sta aspettando. Ciao, buona vida.